Di chiudere la serata tutti assieme in modo che non ci sia il fuggi-fuggi giustamente perché fra poco è ora di cena quindi se c'è qualcuno che deve fare qualche domanda, chiedere qualche chiarimento, fatelo tranquillamente darei la parola a Daniele che fa una presentazione del lavoro fatto ieri sera. Ripeto di nuovo, è inutile fare polemiche su queste vicende, stiamo lavorando a livello regionale sulla nostra proposta, su quella della Lega, tentiamo di fare sintesi, tanta più politica si interessa ed è meno indifferente a queste tematiche, tanto meglio è. Avete capito anche dalle parole ultime dell'assessore come il tema dell'indifferenza sia uno dei temi che dobbiamo affrontare anche come realtà comunale, come territorio, pensare che sia un problema degli altri che non ci interessa, dove voltiamo il nostro sguardo da un'altra parte quando ci troviamo di fronte a queste situazioni credo che non sia questa la soluzione migliore. Dani se vuoi brevemente, dopo qualcuno vuole prenotare...